Se stai avendo problemi riguardo all'uso della memoria esaurita su Fortnite, in questo caso è possibile risolvere il problema installando Fortnite perfettamente e completamente senza nessun problema e poi avviandolo in modalità DirectX 11. In questo caso andiamo nella libreria di Fortnite, tre puntini e vai su opzioni, in questo caso quando vai ad installare per la prima volta Fortnite sicuramente ti dirà di installare tutta questa roba. In questo caso tu vai solamente a installare e prescarica le risorse trasmesse, questo DirectX 12 rimuovilo, texture ad alta risoluzione rimuovila perché non ti serve se tu vuoi giocare al massimo nelle prestazioni e sparare perché non ti serve una grafica così alta fino a farti laggare. In questo caso metti solamente questa spunta qua e basta e fai applica, una volta fatto vai sui tre puntini, gestisci, opzioni di lancio, ora dobbiamo avviarlo, noi dobbiamo avviarlo in modalità di rendering DirectX 11 quindi o vai a scrivere D3D11 oppure trattino DX11 e basta e chiudi qua. Un'altra volta fatto devi solamente chiudere Epic Games, eseguiamolo come amministratore e facciamo sì. Vai nella libreria, tre puntini, gestisci, verifica così i file. Una volta fatto non ti resta che avviare Fortnite. Fortnite va sempre avviato in Epic Games e mai sul desktop ed ecco Fortnite senza nessun problema riguardo alla memoria video esaurita. Quindi in questo caso per altri problemi ancora c'è la playlist intera di più 120 tutorial su Fortnite su come solvere tutti i suoi problemi. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.